Passiamo ad un gruppo eccezionale, ci sono delle band in culto che senza tradire il loro spirito originario diventano veri e propri fenomeni di massa vendendo milioni di dischi. E' il caso di tre ragazzi prodigio dell'indie rock inglese, con Supermassive Black Hole, i Muse! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!